Ho appena terminato diversi test qui con la nuova Frozen Arco e oggi stesso la Frozen mi ha scritto un'email per invitarmi nei suoi uffici qui in Cina per una piccola sorpresa quindi si fa la paligia e si va! Ok so, siamo arrivati finalmente agli uffici I also know one secret Frozen just told me that we are cooperating with a very famous company for making the nozzle and they are releasing a very high quality nozzle in the future So if you want to know more about this one, stay tuned, follow the page to check all the news about this nozzle